ho finalmente un sabato dove posso vedermi la fiorentina dal letto e rilassarmi anche che bel che bel sabato mattina dove mi sveglio a partita già iniziata da circa 10 minuti devo dire la verità che mi sono svegliato qua verso le 9 e 10 ovvero le 3 e 10 italiane e mi guardo a partita dal decimo dodicesimo e che dire ragazzi siamo una macchina da guerra siamo inarrestabili ora non voglio fare non voglio fare proclami che poi magari succede qualcosa e le cose non vanno bene però questa fiorentina ci fa divertire gioca bene ha un'intensità pazzesca anche contro squadre totalmente chiuse in difesa come questa salernitana che veramente ragazzi erano erano in 10 in 10 compreso il portiere quindi c'era un giocatore oltre la loro metà campo e poi 10 dietro è difficile da giudicare troppa troppa felicità finalmente quest'anno è un anno dove mi rilasso vedere la fiorentina comunque dove dove sto bene dove mi diverto non come gli ultimi tre anni dove mamma mia volevo veramente non guardarla più quasi è una sensazione bellissima andiamo al quinto posto scavalchiamo temporaneamente la juventus fino a che non giocherà col col venezia oggi a venezia partita non facile tra l'altro per loro secondo me e finalmente sfatiamo anche questa cosa di non vincere contro le neopromosse e e vinciamo anche nettamente contro questa salernitana che devo dire la verità a parte un paio di occasioni nel primo tempo e anche molto lieve e una e mezzo nel secondo tempo non ha fatto niente quindi direi vittoria veramente meritata salernitana mi dispiace se ci io mi aspettavo una vittoria anche così avevo paura un po di liberie di simi infatti nel secondo tempo simi ci ha fatto anche gol meno male era fuori gioco perché la difesa era andata veramente a far falle a noi ci capita nel secondo tempo di avere questi questi svarioni ma parliamone adesso più con calma intanto vi ricordo che questo è il canale supporter square io sono gabe il tifoso della fiorentina di questo gruppo è supporter square avremo sempre del live qui e sul canale viola su youtube durante la settimana sul canale viola il venerdì sera e il lunedì sera ma tornando alla partita io darò darò dei voti ai migliori chiaramente migliori in campo direi dusan vlavic che fa doppietta anche oggi ma benissimo anche torreira molto bene sottil quando entrato bene terracciano che in un paio di occasioni ci ha salvato non non do insufficienza oggi perché per me siamo stati tutti bravi però comunque vi dico i migliori in campo sono bonaventura che anche oggi a parte il gol ha fatto una partita pazzesca l'unica salta all'uomo portava sempre superiorità numerica veramente veramente tanta roba quindi do un 7 pieno a jack do un 7 a vlavic e do un tra il 6 e il 7 a torreira e dei subentrati molto bene sia sottil che fasis che malè che segna appunto su ribattuta il tiro di vlavic e quindi do a loro un tra il 6 e il 7 pure quindi questi sono i voti per i migliori in campo non do peggiori in campo anche se dico che italiano ha fatto molto bene a togliere milenkovich dopo l'ammunizione l'ha visto probabilmente un po un po nervoso anche perché milenkovich era sul lato dove attaccava anche liberi poi avrò da dire anche su liberi che sapete ragazzi comunque a me non sta molto simpatico ma ve lo dirò dopo sì diciamo che per me questa è una partita dove dove la fiorentina prende un 6 e mezzo pieno dove l'allenatore vincenzo temo prende un 7 perché l'ha preparata molto bene non era facile visto i precedenti nostri contro le neopromosse e siamo ragazzi lassù veramente quest'anno adesso e troviamo continuità anche siamo veramente lassù chiaramente non non facciamo non poniamoci obiettivi che sono impossibili ma continuiamo a sognare partita dopo partita a sognare a sperare e a e a divertirci partita dopo partita perché veramente se si gioca così a mente leggera possiamo veramente andare lontano l'unica cosa dico chiudiamo le partite prima anche oggi prima del terzo del quarto gol abbiamo sbagliato due o tre gol proprio facili manca poco e la salernitana ci aveva segnato c'è stato un calo psicologico da parte nostra dove ho detto vai ora se convavi da nicolai simi si soffre e sarebbe stato sul 2 sul 2 1 meno male simi era in fuorigioco leggerissimo è piccolissimo però netto quindi ci prendiamo anche oggi questo clean sheet in casa ormai siamo veramente una macchina da guerra veramente è tornato il fortino del franchi e detto questo mi viene da dire pensiamo alla prossima vediamo anche un po la coppa italia contro il benevento spero che italiano faccia un po di turnover spero che dia di riposo a biraghi tra l'altro biraghi ragazzi standing ovation dello stadio franchi oggi cioè la gente si sta rendendo conto che questo è un grandissimo giocatore e anche lui per mettere a va tra i migliori in campo intorno anche lui prende un 6 e mezzo 6 7 perché veramente bene sia in fase difensiva che in fase d'attacco quest'anno azzecca molto meglio anche rosma non è che non li sapeva fare che sicuramente ha messo in una posizione di gioca di giocare molto più tranquillo di di avere di avere anche lui l'opportunità di fare dei crosta quando c'è un gioco diciamo e quindi sicuramente rende molto meglio anche lui per me è sempre stato un ottimo giocatore vediamo un po come si procede ragazzi con la stagione io sono molto soddisfatto però di questa fiorentina quest'anno ci si diverte siamo tornati ad avere un'identità ad avere un posto tra le prime tra le prime della classifica per ora quindi continuiamo così io vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di seguirci appunto su instagram sul canale viola e tra poco anche su twitter vi auguro una buona giornata una buona serata a tutti vi mando un bacio sempre forza viola e viva supporter forza viola e viva Grazie.